Allora sono qui in ABB Robo Studio, vado a aprire il tasto sinistro, schiaccio, vado a aprire il file del Pippo 2 che ho salvato nel tutorial 3, apro, dunque mi si carica e adesso vado semplicemente, aspetto innanzitutto che il controller si carichi, poi lo giro e vado su percorsi e target, schiacciando qui, vado a vedere i miei percorsi e li cancello, dunque posso anche o andare qui, cliccando qui posso andare in modifica o tasto destro, li posso cancellare, andiamo in modifica, ok, e andiamo a fare il target cancellare il path, dunque mi si cancella tutto il percorso, a questo punto potrei andare sempre schiacciando qui, modifica, rimuove, rimuovi i target non utilizzati che sarebbero questi, questi, queste terne, ok, faccio, dunque sono qui, vado qui in, vediamo, modifica e rimuovi i target non utilizzati, le rimuovo e non ci sono più, ok, se no erano qui, li selezionavo qui e poi li rimuovevo qui, avrò le due alternative, o questa e modifica, o questa qua, a questo punto vado in home e vado a importare una geometria di un tavolo, cerco la geometria, vado qua sotto e vado a cercare table, apro, lo faccio inserire, qui naturalmente vado sul table, vi dico, sposto leggermente, vediamo, lo sposto, ok, e quasi quasi, adesso me lo ruoto anche, dunque vado sul table e vado anche, schiaccio qua sul table, a ruotarmelo, ok, me lo ruoto di circa 90 gradi, adesso posso andare, tasto destro, tasto destro, vado a togliere qui il jog, tasto destro, vado a metterlo in posto alla posizione, e andrò a metterlo a posizione, vediamo la X, faccio un 50, ok, mentre è meglio che faccio 0, vediamo 0, qui, e qua faccio meno 90, applica, ok, e qui dunque 90, 90, 90, meno, meno, ok, dunque si vede qui, diciamo l'ombra, qua va bene, però qui invece devo andare più lontano, dunque farò 100, e qui quasi quasi vado più su, vediamo facendo 100, dove va, devo fare di più, facciamo 300, 500, facciamo 500, ok, applica, chiudi, dunque sono qui, devo spostarlo leggermente, posso anche, se vado a questo punto, mi seleziono il tavolo, col tasto sinistro, e lo sposto leggermente, ok, ok, poi se scaccio il jog, tiro via il jog, e se voglio, vado qui, tasto destro, posizione, imposta la posizione, e mettiamo 200, ok, applica, a questo punto, chiudi, ho il tavolo, a questo punto, vado a prendermi un altro componente, vado a importare la geometria, cerco la geometria, e vado a importarmi la lettera B, apri, a questo punto la lettera B è questo, posso muoverla anche qui, la alzo, intanto così per avere, per poi andarla a posizionare, adesso posso andare a posizionare, la lettera B qua, su questo segmento qua, allora posso, potrei fare anche in questo modo qui, dunque seleziono, posso selezionare, la parte, e però seleziono, i punti, i punti medi, se potrei, sulla parte mediana, seleziono corpo, e parte mediana, adesso vediamo se riusciamo, dunque adesso, porto sul B, tasto destro, posizione, posiziona, un punto, allora il punto principale, è questo qui, da, e vado a prenderlo, schiaccio qui, l'importante è schiacciare lì, vuoto, e vado a prendere questo, vediamo se me l'ha preso, non me l'ha preso, allora andiamo a cancellare, e andiamo a prendere, schiaccio qui, questo punto qui, ok, questo punto qui, è questo, che è il punto medio, dal punto principale, l'altro punto, schiaccio qui, ok, e lo voglio applicare qui, vediamo se riesco, ok, devo stare attento, quando sono qui col table, che devo sempre riprendere, la parte che voglio togliere, allora, vado qui sul table, l'importante, e che qua ci sia table, schiaccio questo, e vado a prendermi, questo punto qui, dunque, da questo punto qui, a questo punto, applica, in questo modo, la mia lettera B, è perfettamente nel punto di mezzo, sono a posto, faccio un tasto destro, visualizza tutto, mi sposto leggermente, ok, chiudi, a questo punto vado qui, file, salva stazione con nome, questa volta la stazione la salviamo con 2.1, salva, ok, ci vediamo alla prossima, arrivederci!